La trasferta di Varese si presenta particolarmente ostica per il valore dei nostri avversari, il cammino che hanno avuto fino a questo momento. È un dato oggettivo che siano ancora imbattuti tra le gare di precampionato e le due giocate nel campionato. Troviamo una squadra votata, un basket molto spettacolare, campo aperto, tiro da tre punti, giocatori molto duttili, versatili, che ne fanno probabilmente l'attacco più prolifico e più efficace dell'intera Serie A. Quindi da parte nostra ci sarà l'obbligo di riuscire a competere contro una squadra che sarà spinta dal solito pubblico, numeroso e caloroso, che vorrà vedere la squadra proseguire il cammino trionfale di queste prime settimane di stagione. La sconfitta di Berlino deve essere un'occasione di riflessione per cercare di migliorare. Sappiamo che il nostro percorso di crescita passerà obbligatoriamente anche da sconfitte e serate come queste. La trasferta di Varese e subito dopo quella di Tel Aviv arrivano come prime opportunità, permetterà alla prova la nostra capacità di correggere gli errori commessi.